Sesto piano? Sesto piano. Leggi il primo video, facciamo il piano. Metti un bel taglio. Facciamo così qui. Oh, ma com'è? Allora, grazie. Ora sono i genitori per dormire, buona notte. Anche qui. Ecco, via! Buona notte! Allora, come mangiamo? Allora, non aspetta! Come stiamo? Come stiamo? Abbiamo in inglese. Abbiamo in inglese. Avrei fatto il sorprezzo. Ma non è. È un sorpresidente? Come succede! Come stiamo a fare? Come stiamo a vedere? Non ci sono sorprende! Ti invito? E ecco, per la prima volta che Mariano si può passare sopra. La prima volta! Dopo 18 anni. Dopo 18 anni. Dopo 18 anni. Ci vuole offrire un bicchiere d'acqua. Mamma mia! che emozione, spegni la candelina, dopo 18 anni Mariano ci offre un bicchiere d'acqua ora spegni questa altra candelina mamma mia, si può bloccare l'intensore ha fatto solo 18 anni, 18 anni spegni questa candelina ha appicciato un po' di luce hai appicciato un pote insieme a il coro Fiondoli, Dammain? Dammain! Dammain, Dammain, Dammain! Sampan! Sampan! Mabà, ti bloccano! Ci sarò bloccano in da sudò, non so devi vicino! Faccio a giurata, da! Arriva da un paera! Oh, ciao! E la sudò, non so... Oh, no! Stu, stu, stu... Stu, stu, stu! Stu, 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 stu! Stu, 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 stu... E io sono lo sbiscione!